allora buonasera a tutti ho attivato la registrazione così registriamo anche la puntata dunque stasera ho deciso di dare un taglio un pochino diverso anche per variare un po gli argomenti che trattiamo parleremo del cyberman poi l'inglese è una lingua un po così sempre da interpretare in collegamento diciamo alle elezioni politiche in arrivo il 25 di settembre poi al nuovo ordine mondiale perché il cyberman comunque che io ho trattato brevemente nella premessa della trilogia rientra evidentemente nel nuovo ordine mondiale ora una domanda velocissima alcuni mi conoscono no come autore c'è qualcuno che ha letto il libro ha iniziato a leggere il libro o benvenuto parte si è collegata anche il dottor manca benvenuto abbiamo geni ho già iniziato sto registrando grazie buona buonasera allora io ho bisogno di cinque minuti adesso buonasera marilena benvenuta per fare appunto questa breve premessa oggi cambiamo un pochino il format parliamo anche di tante cose e come ho brevemente presentato nella nell'annuncio che ho messo presente su facebook che ti ho anche inviato vorrei partire da un video che ho trovato su internet di la verità un amico me l'ha mandato conoscevo già l'autore me l'ha postato su facebook e mi ha dato lui l'idea no di parlarne che si chiama Yuval Noah Harari è un professore universitario che insegna l'università di Gerusalemme ovviamente ebreo che fa parte di quel gruppo di intellettuali lui si considera uno storico scritto anche diversi libri ovviamente che hanno venduto milioni di copie nel mondo e che fa parte di del gruppo Schwamp per esempio che sono dei think tank sono quelli che stanno lavorando sulla creazione e che cos'è questo progetto è un progetto lui lo spiega bene ho messo anche il link se vi interessa potete andarla a vedere l'intervista si capisce abbastanza bene nella quale che lui ha rilasciato a 60 minutes che è una delle 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 trasmissioni più importanti più seguite in america condotta da diciamo giornalista che si è un pochino tutti lavorano un pochino tutti per i servizi quindi naturalmente sono tutte cose che vanno sempre presa un po così però lui in maniera molto tranquilla spiega in questa intervista che dura circa 13 minuti quello che sta che stanno facendo e su che cosa stanno lavorando cioè loro stanno lui dice con molta tranquillità che adesso esiste la tecnologia che permette di cambiare la biologia dell'uomo e di trasformarlo dall'uomo sapiens così sapiens sapiens così come lo chiama anche lui in un libro che ha scritto molto famoso in un uomo che risponderà più a input forniti da computer quindi da macchine piuttosto che l'uomo appunto che conosciamo oggi che ha una sua spiritualità che crede in dio eccetera eccetera quindi sarà un uomo nuovo creato da uomo creato da uomini quindi loro che si considerano dei che si considerano i creatori dell'uomo futuro e questo uomo risponderà a delle esigenze che sono da ricollegare agli interessi di aziende quali la google microsoft e tutte le grandi multinazionali che negli ultimi 10-15 anni in particolare hanno capito che attraverso la raccolta dei data quindi delle informazioni di ciascuno di noi cosa che hanno fatto in maniera molto abile e astuta attraverso facebook e social media in generale hanno raccolto tutte queste informazioni facendoci facendoci da fornendoci questi servizi lo stesso whatsapp è una creazione in un certo senso loro delle sovrastrutture offrendocene come opportunità e gratuite nella realtà si tratta di programmi e di strumenti che sono finalizzati a raccogliere appunto le informazioni che loro utilizzeranno per la creazione di questo super uomo che da un lato lui dice sarà più intelligente ma nella realtà sarà ovviamente molto meno libero e molto meno indipendente indipendente da quello che può essere oggi io vi invito naturalmente a vederlo perché a sentire un'intervista così effettivamente personalmente veramente io ci sto male ci sto male perché vedo anche un ragazzo giovane fra l'altro lui si dichiara anche gay è un ragazzo giovane fra l'altro lui si dichiara anche un ragazzo giovane fra l'altro lui è come se fosse assolutamente convinto di fare una cosa importante per la per il futuro dell'umanità e purtroppo purtroppo a mal in cuore devo dire che non sono assolutamente d'accordo su quello ovviamente che dice lui e su quello che stanno facendo allora fatto questa premessa ne ho parlato perché in questo momento siamo in vacanza no? e ho avuto in mente ma guarda un po' siccome era proprio il 15 di ferragosto la coincidenza è stata fatta guarda ho scoperto questa intervista che è raccapricciante è il 15 di agosto e gli italiani sono tutti al mare cioè tante volte mi viene questa cosa qui che io dico ma come è possibile che le persone riesca abbiano molte persone ora noi siamo già molto selezionati quindi noi abbiamo forse già capito abbastanza no? di quello che succede di quello che succederà ma l'altra grande maggioranza delle persone pensa che sia già tutto finito siamo ancora all'inizio io l'ho spiegato nel libro non so più come dirlo cerchiamo di essere positivi e costruttivi in quello che facciamo noi siamo contenti ci mandano al mare ci danno la libertà e loro dietro le quinte e neanche nemmeno tanto dietro le quinte perché sputoratamente rilasciano poi interviste di questo tipo continueranno a lavorare sul loro progetto che è un progetto del nuovo ordine mondiale che prevede la riduzione della popolazione mondiale loro l'hanno ripetuto centinaia di volte che è quello che vogliono fare con allo stesso tempo tutti degli esperimenti per mettere a punto questo nuovo sapiens non so ancora come lo chiameranno che sarà il nuovo uomo creato da loro quindi loro sono proprio degli dèi in terra e io ho pensato ma guarda che questa è un'intervista così e la gente italiana sono tutti al mare carità di Dio dopo due anni oltre due anni di prigionia ovviamente è comprensibile quindi non c'è niente di male però adesso bisogna ritornare a concentrarsi l'estate sta finendo e per decidere veramente quello che si vuol fare a settembre, ottobre, novembre a mio modestissimo avviso è inutile aspettare quello che succederà e arrivo al soggetto insomma al discorso delle elezioni politiche quello che succederà dopo le elezioni politiche perché non succederà assolutamente niente in Italia le elezioni politiche non servono assolutamente niente come non servono nella stragrande maggioranza dei paesi ci sono queste sovrastrutture di cui parlo anche nel libro che si chiamano Consili Supremi e che poi dopo si manifestano in maniera pubblica nelle Nazioni Unite nell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel gruppo Bilderberg tutti questi gruppi più o meno che sono quelli che definiscono di quelli importanti non parlano mai in televisione però vi ho detto questi perché anche questi naturalmente hanno più visibilità e li conoscono tutti ma quelli veramente importanti che io ho scritto nella teologia non ne parlano quasi mai non ne parla nessuno la maggior parte degli esperti non li conosce mai e non succederà cosa cosa volete che succeda l'Italia è una società privata l'Italia è una società privata quotata alla SEC e quando il tesoro italiano come ho spiegato io in un video ha bisogno di soldi perché lo Stato ha bisogno di soldi non spende sempre di più di quello che raccoglie va alla SEC di Londra e firma questi contratti l'ultimo che ha fatto è con la Banca d'America per finanziare tutte le proprie coste e proprie spese quindi diciamo che come succede come una società privata una compagnia privata che va in banca e finché li danno finché ha credito e finché li danno fido gli danno soldi perché danno soldi all'Italia che è un paese che è completamente in banca rotta molto semplice perché l'Italia è ancora nonostante tutto il paese più ricco al nuovo solo di bellezze artistiche cioè abbiamo più del 50% delle bellezze mondiali che esistono quindi avete voglia il governo italiano se vuole trova più di soldi perché li danno però tra pochi anni e concludo adesso concludo tra pochi anni probabilmente tutte le grandi aziende le grandi proprietà le grandi bellezze saranno passate di mano e allora forse le cose funzioneranno anche un pochino meglio perché qui devo fare una piccola critica la mentalità che abbiamo noi in Italia è molto strana e uno se ne accorge io me ne sono accorto tanti anni fa infatti nel 99 sono poi andato in America non me lo faceva andare nessuno da andare in America però ci sono andato ci sono portato alla famiglia e abbiamo questa mentalità per cui ci si lamenta sempre e però non riusciamo poi a fare quello che si deve fare quindi dobbiamo a mio modestissimo avviso se posso nel mio piccolo dare un suggerimento anche proprio dal punto di vista professionale smetterla di piangerci addosso tirarci sulle maniche e almeno per coloro che possono fare qualcosa cercare di mettere insieme qualcosa di utile quindi ognuno sia libero di andare a votare chi desidera per carità di Dio io sono ormai credo più di 30 anni che non voto più anzi l'ultimo voto ve lo posso anche dire l'ho dato a Berlusconi così è non perché straveda per Berlusconi ma quando è stato nell'80 quando è stato venuto su e poi non ci sono più andato un paio di volte a pannella precedentemente ma poi non ci sono più andato nel corso degli anni ho capito che chiunque voi votiate date un voto alla massoneria date un voto a coloro che sono lì non per rappresentare voi ma per tutelare gli interessi delle sovrastrutture i politici italiani non sono altro che gli amministratori eletti da da noi che sono lì per tutelare gli interessi di chi controlla l'Italia SPA mi fermo qua per non dirvi troppe cose che magari per alcuni sono scioccanti ma sono tutte cose scritte nel libro e purtroppo documentate adesso io lascio la parola a Walter Manca Walter ci sei vero? ci sei vero? sei qua? ci sei ancora qua? eccovi Walter e se qualcuno ha delle domande sia su quello che ho detto sia anche come commento così sia su loro approfittate che Manca sta qui una solita mezz'oretta e poi lo mandiamo a riposare prego ci sono domande? c'è nessuno che vuol fare domande? sì ciao Massimo sono Franco prego ciao Franco prego ciao posso farti una domanda in merito a quello che hai detto ma poniamo il caso che un un certo gruppo politico riesca in qualche modo ad entrare in governo quali sono i mezzi persuasivi che vengono utilizzati per fare in modo che questi si uniformino al pensiero comune? allora dunque per quello che posso aver capito io quando quando vengono allora la maggior parte dei partiti che si costituiscono vengono costituiti da soggetti politici senatori o parlamentari che sono già in Parlamento che sono già in Senato anche per costituire un partito ci vuole una certa esperienza e ci vuole tanti soldi non è che io e te ci mettiamo insieme a tutti gli amici che magari adesso contattiamo e facciamo un partito infatti adesso si sta verificando infatti tutte queste coalizioni di politica sì però esiste appunto un discorso di selezione è un po' il discorso che avviene sempre nella politica il presidente per dire il presidente americano i presidenti americani che vengono eletti non sono eletti dai cittadini vengono prima selezionati da un comitato particolare di cui io ho fatto un po' di ricerca so che esiste ma però non sono riuscito a capire bene mi sembra siano 12 persone vengono è come lo stesso Trump è stato anche lui fatto parte del panel iniziale ma perché è stato selezionato se no mica poteva essere lì solo perché ha soldi no 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 assolutamente devono essere selezionati autorizzati e a quel punto devono allinearsi capisci allinearsi alle volontà politiche delle sovrastrutture cioè chiunque possa siedere in Parlamento a un certo punto a un certo momento viene chiamato e viene gli viene spiegato tutto quello che deve fare se gli piace e si accetta rimane in linea di massima a far parte del gruppo ma voi pensate al cambiamento drastico radicale che ha avuto il Movimento 5 Stelle esatto perché a un certo punto quelli che non sono d'accordo entrano nel gruppo misto entrano nel gruppo misto e poi magari dopo una una legislatura naturalmente poi vengono fatti fuori perché non si allineano poi naturalmente queste cose qui non le sappiamo ma funziona esattamente così in tutto il mondo cioè il voto nostro non conta assolutamente niente ma se ma 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 se contasse ce l'avrebbero dato no figurati un po' ma noi pensiamo di vivere in una democrazia in cui si vota il voto è importante ma assolutamente assolutamente no è stato soltanto la maniera che si sono inventati per legittimare quella che loro hanno chiamato democrazia ma la democrazia non esiste ma non esiste in nessuna maniera esiste un minimo di libertà che quella che ti hanno lasciato concesso va bene però c'è molta te ci sei venuto qua no Franco c'è molta libertà qua che in Italia io faccio quello che voglio non mi controlla nessuno cioè sono completamente libero di fare quello che voglio in Italia devo stare attento anche quando parlo al telefono che dico ecco sì i sistemi sono fatti in questa maniera non so se ti ho dato la risposta sì sì io sono perfettamente in linea con quello che hai detto io volevo solo capire cioè quale poteva essere diciamo se tu non sei d'accordo con il con il programma cosa fanno nel senso tu mi hai detto li mettono nel 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 la storia la storia insegna che quando cominciano a litigare e non si mettono d'accordo il 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 presidente eh il presidente eh eh fa il 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 governo tecnico no? capito? Matt fa il governo tecnico perché non c'è stata nessun'altra intesa possibilità e col governo tecnico sei doppiamente fregato perché quei tecnici lì non sono nemmeno eletti molti sono consulenti esterni vengono chiamati come consulenti esterni e non sono nemmeno eletti da nessuno poi mi dimenticavo di dire una cosa molto importante ma la legge elettorale nel duemila la famosa legge elettorale nel duemila venticinque non era eh risultata incostituzionale quindi siamo andati al voto prima si doveva cambiare la legge guarda c'ho qui c'ho qui wikopedia davanti a me la legge elettorale italiana duemila quindici dominata ufficialmente legge sei marcio duemila quindici comunemente nota come italico successivamente dichiarata in alcune sue parti costituzionalmente illegittima dalla sentenza della corte costituzionale del sedici febbraio del diciassette eccetera 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 prima bisognava rifare la legge elettorale no? e poi andare a votare no tutti si sono dimenticati a partire dal presidente che la legge che utilizziamo in questo momento è incostituzionale proprio lui che dovrebbe salvaguardare la costituzione ma che paese è questo qui? ma cioè come non so come spiegarla ma il presidente dovrebbe a caso mai dire beh c'è questo problema sulla legge elettorale mi impegno sulla parola andiamo a votare sperando che si riesca a mettere insieme un governo mi impegno sulla parola che la prima cosa che il nuovo governo istituito farà è quella di mettere mano alla legge elettorale che è incostituzionale in un governo in un paese normale dovrebbe funzionare così sbaglio? no no giusto giusto do il benvenuto a Sara ed Edoardo che anche loro sono degli amici che sono venuti a trovarci ciao Massimo buonasera ciao caro come è andato rientro tutto bene? sì diciamo tutto bene anche se se lo sai si stava molto bene ho una buona notizia e una cattiva notizia Edoardo quale vuoi? quella buona e quella cattiva è uguale tanto poi quello che conta è la somma allora la somma la somma fa zero la notizia la notizia buona è che il parmigiano era ancora buono e la notizia negativa che è già finito che è già finito e guarda stiamo no scherzo no scherzo 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 allora scusami 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 voglio dare fare il saluto anche a Michele e Giulia ciao Michele come stai? mi senti? Michele? sono amici che sono venuti tutti a trovarci mi fa piacere che si siano collegati ciao Massimo ciao ciao come stai? tutto bene grazie sono tornato dall'Italia no Michele perdonami c'è Michele grazie grazie di intervenire salutavo Michele e Giulia Lanzara Michele e Giulia mi sentite? e vabbè insomma non voglio disturbarli magari fanno altre cose e prego Michele prego scusami se ti ho interrotto vai pure avanti sei rientrato alle ferie? sì 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 tutto bene pensavo ti rivolgevi a me per cui sì no scusatemi ma hai detto dei stessi nomi ci sono molti micheli si vede allora Franco non so se ti ho risposto però capito è tutto gestito dalle sovrastrutture che come ho spiegato io nel capitolo 4 mi sembra quando parlo di Mazzini e Paik sono state questi consigli supremi sono stati fondati intorno al 1860 proprio da Paik Paik e Mazzini con l'intento dichiarato dichiarato da Paik ma anche dello stesso Mazzini di creare delle sovrastrutture al di sopra di tutte le logge massoniche per controllare la massoneria ecco loro rappresentano gli illuminati cioè coloro che con questo Arari con tutti i vari think tank che ci sono controllano adesso il mondo e gestiscono e operano per il cambiamento della natura dell'uomo questo è quello che un magistrato dovrebbe intervenire e aprire un fascicolo a carico di un soggetto del genere eppure non fanno assolutamente niente ma nemmeno nemmeno niente assolutamente niente e quindi anche noi come cittadini cosa possiamo fare possiamo fare assolutamente niente se non intervengono i magistrati a fare il proprio lavoro uno che dichiara una cosa così dovrebbe perlomeno essere convocato da un magistrato da qualcuno e dire scusa mi spieghi bene quello che vuoi fare a me non mi sembra però siccome sono tutte sovrastrutture talmente potenti talmente con talmente tanti soldi che sono tutti buoni lì zitti e non posso non può parlare nessuno allora ehm buonvenuto anche a KKS che non conosco Walter prenditi pure 5-10 minuti se qualcuno ha delle domande adesso parliamo un pochino d'oro eh ehm d'oro di Ovesta eh dottor Walter è a disposizione per le domande che avete l'oro sta recuperando un pochino e andrà secondo tutte tutte le cioè le proiezioni vengono dall'America no? che io le seguo un po' così andrà con molta probabilità oltre i 70 mila dollari di qui alla fine dell'anno quindi coloro che vogliono investire in oro questo è ancora un momento molto favorevole all'investimento approfitto per dire che per tutto il mese di eh agosto quindi ancora per 13-14 giorni la mia promozione personale che ho fatto è ancora valida tutti coloro che apriranno un 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 conto Royal apriranno una Royal classica una Vesta avranno uno sconto di 100 euro eh questo è proprio è un diciamo un omaggio mio un incentivo che do io naturalmente se la Royal class è di di 30 mila almeno di 30 mila euro si è di 60 mila euro naturalmente sarà il doppio sarà 200 euro prego prego ci sono domande andate adesso parlate voi ho già parlato anche proprio su non siate timidi eh allora prego eh se se posso eh visto che hai parlato del della Royal class quindi della tariffa top di Avesta quella riservata a chi eh in pratica vuole spostare dei capitali già di una certa importanza dal sistema bancario o finanziario tradizionale alla materia prima oro in particolare eh allora eh è una un approccio già di un certo tipo e con una consapevolezza eh particolare che deriva anche da questi incontri che facciamo il mercoledì con te per cui questo è un primo passaggio sicuramente molto importante eh dal mio punto di vista e dal dalla mia posizione di eh referente di Avesta per i consulenti in Italia faccio presente che eh Avesta è nata per i piani di accumulo quindi per chi vuole nel tempo costituirsi un patrimonio in metalli preziosi che siano oro argento platino palladio e eh anche ovviamente per chi invece ha già un patrimonio iniziale significativo tu parlavi di 30.000 euro e e quindi voglia già eh fare un acquisto importante come in prima battuta poi ne possono anche seguire altri ovviamente ma non pensato come piano di accumulo infatti i piani di accumulo di euro resta partono da versamenti minimi che partono dai 25 euro e vanno 50 o 100 euro quindi questi sono i tre piani di accumulo eh perché oro perché argento perché platino perché palladio questo è un discorso che credo sia stato affrontato in maniera molto approfondita dal dottor Max e anche all'interno della trilogia sia stato spiegato il perché sia così importante eh sono materie prime oggi come oggi il mercato finanziario è quello che gestisce la politica ed è quindi quello che da un giorno all'altro può cambiare completamente tutte le regole del gioco sulle materie prime e in particolare sull'oro c'è una ehm sicurezza che viene dalla storia e che non è mai stata tradita eh come diceva un banchiere svizzero solo l'oro è denaro tutto il resto è credito e quello che stiamo vedendo noi in questo periodo è proprio questo aspetto cioè che ehm si sta facendo credito il PNRR è credito vogliamo fare qualche passo indietro al piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale è credito ma il credito ha un suo costo e che ci guadagna da questo costo e questa è la cosa che andrebbe valutata ed è una riflessione alla quale invito tutti quanti detto questo a Ovest è un'azienda germanica con sede da Holzkirchen che è 25 km circa sud di Monaco di Baviera opera nel settore dei metalli preziosi dal 2009 e come dicevo prima vuole offrire a chiunque la possibilità di costituirsi un patrimonio in metalli preziosi lo fa in una maniera molto semplice quindi con i versamenti che vi ho detto prima e soprattutto con una gestione online per cui il cliente decide se accumulare e farsi conservare nei depositi a massima sicurezza di Ovest il proprio metallo prezioso oppure farcelo compagnare oppure potrebbe decidere di venderlo perché ha bisogno della liquidità e nel giro di massimo due giorni ha il netto ricavo sul suo compagno perché Ovest nei propri contratti si obbliga al riacquisto del loro e al rinforzo del proprio cliente direi che queste informazioni generali ando a voi eh ma ovviamente se eh ci sono domande specifiche al di là di stasera in questa occasione dove vi rispondo ben volentieri ma eh tramite il dottor Max ci possiamo sentire eh per degli incontri individuali e capire le esigenze eh specifiche che può avere ognuno di voi nel frattempo se c'è un domande di fatemele pure aspetto ecco allora in attesa delle domande approfitto per fare delle puntualizzazioni però molto importanti che poi spiegherò magari in che maniera un po' più dettagliata e più ordinata adesso vado diciamo così abbraccio nel 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 report che ho messo insieme che trovate che potete leggere sul mio sito a menteaperta punto net vi collegate cliccate la casellina consulenza oro e aprite la pagina dove è spiegata la breve storia dell'oro una storia del tradimento invito tutti coloro che hanno una mezza intenzione di investire in oro e ripeto questo è un momento molto favorevole eh tenere tutti tutti i soldi in banca ehm non è eh insomma una cosa molto intelligente in questo momento perché bisogna comunque sempre diversificare eh gli suggerisco proprio di leggere eh questo piccolo lavoro che ho messo insieme è molto semplice però diciamo che è secondo me è più che sufficiente se uno legge con un po' di attenzione è più che sufficiente no per per arrivare a un minimo di 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 cognizione di conoscenza di base perché ricordiamoci che tutte le scelte sono si basa sulla nostra conoscenza se noi oggi rischiamo tra virgolette di perdere la libertà e di perdere la salute a me dispiace dire queste cose però è perché eh siamo ignoranti e non si sanno le cose il signor professor Ariri non a caso è stato selezionato per fare un certo tipo di cose lui è ebreo è un sicuramente è stato uno studente modello ed è stato cooptato per fare un certo tipo di lavoro loro hanno la conoscenza loro si possono permettere di fare tutto quello che vogliono perché hanno soldi conoscenza e network noi non abbiamo quasi niente di queste cose ci dobbiamo difendere con le armi che abbiamo però la conoscenza è comunque la base di tutto perché senza conoscere non possiamo scegliere non siamo nemmeno liberi quindi vi leggete ci sono già le tre parti che sono le parti importanti poi ne aggiungerò una quarta ho atteso non a caso a completare il lavoro perché nel frattempo mi sono venute in mente altre cose le cose principali che mi sono venute in due parole sono le seguenti cioè voi comprate e potete comprare e vendere oro e non ci pagate mai le tasse seconda cosa sull'oro però c'è il capital game così come avviene quando si compro delle quote azionarie quando poi se si va a vendere la quota azionaria ci si paga il capital game anche credo anche quando si fa la dichiarazione delle tasse si deve pagare il capital game sull'incremento che la quota ha avuto ora perché è importante dire queste cose è importante dire queste cose perché ci sono degli non posso chiamarli autorevoli ma dei personaggi dell'influencer molto conosciuti e dei consulenti che incoraggiano all'acquisto di oro sfuso allora facciamo una precisazione io sono il primo a incoraggiare l'acquisto di oro oro o altri metalli di metalli preziosi di sfusi fino a un massimo di 10.000 euro perché un massimo di 10.000 euro poi naturalmente dipende dal portafoglio della persona perché sono tanti tanti soldi che può comprare anche 50.000 euro non è questo il punto ma per una persona normale già 10 sono tanti perché ora ve lo spiego in due parole perché non bisognerebbe mai comprare grandi quantità di oro sfuso allora e perché quindi la soluzione a mio avviso è a ovesta proprio per questa ragione quando si compra oro si compra oro magari oggi si compra 50-55 perché è il prezzo grosso modo dell'oro e automaticamente se si prende quest'oro e ci si fa consegnare a casa e poi poi per tutta una serie di ragioni si vuole rivendere anche da lì un anno due anni tre anni e si perde quasi subito addirittura il 40% del valore perché io ho chiesto a un compra oro oggi nella mia città a Lucca pagano 30.000 euro al chilo cioè 30 grammi 30 quanto è 30 30 scusate 30 centesimi al grammo ora quindi uno dice beh se io lo compro per tenerlo è una cosa che ha senso non mi importa assolutamente niente lo tengo lì 10-15 anni il ragionamento è giustissimo perché l'oro incrementa sempre nel corso degli anni e quindi non ci perderà mai però alla fine se lo vende e si ha incrementato per esempio del 50% su quel 50% di incremento tra pezzo di acquisto e poi nel momento in cui lo vende ci deve pagare il capital game che sono il 26% va bene del valore quindi uno magari ha comprato l'oro a 100 lo rivende dopo non lo so 5-10 a 5 anni a 200 su quei 100 ci deve pagare 26.000 dollari scusate euro di tasse e già questa è una cosa che a me suona particolarmente male non lo farei mai l'investimento in quel senso perché è oro sfuso va bene quindi tutto questo problema sul capital game non esiste se noi si compra l'oro in Ovesta perché tanto quando te compri l'oro in Ovesta l'unica piccola tassa che ti chiede è la tassa di deposito non ti chiede nient'altro in qualsiasi momento lo puoi rivendere e ti paga l'oro al prezzo del mercato del fix in di Londra quindi grosso modo al prezzo in cui l'ha pagato se l'oro nel frattempo ha guadagnato cioè Ovesta ti metterà sul conto corrente ti restituirà insomma il valore più il guadagno rispetto a quello che l'avevi pagato prima ma non ci deve mica pagare il capital game ci deve pagare niente hai investito magari l'hai comprata 50 a fine anno va a 70 su quei 20.000 euro di differenza non ci devono pagare niente perché rimane in deposito ad Ovesta e non è oro sfuso quindi il mio suggerimento non comprate assolutamente oro sfuso se investite soldi che poi vi possono servire nel breve periodo in particolare in un momento nel genere nel momento che stiamo vivendo è l'idea di lasciare l'Italia anche se non vi conviene portare l'olio se ti portate per dire 100.000 euro d'oro no? oro sfuso si torna al solito qui in Tanzania ci deve pagare in Africa in via di massima quasi in tutte le nazioni in Africa ci dovete pagare le tasse qui le tasse sono 7.2% qui ci dovete pagare 7.000 dollari in questo caso si parla di dollari per portare 100.000 l'equivalente di 100.000 euro naturalmente è una cosa assurda questa qui meglio tenerli in Ovesta non ci pagate capital gain non ci pagate tasse poi se l'oro si incrementa avete fatto un buon investimento e va bene però non avete nessun tipo di problema vi dovete spostare in un altro paese chiamato Vesta mandate la comunicazione andate sul sito cliccate la tendina vendita e vi vendete l'oro che volete in un giorno a me mi arriva in un giorno in Tanzania adesso in Tanzania e quando ogni tanto anch'io devo vendere oro perché c'è sempre spese 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 va bene non ci sono problemi e me lo accredita sul conto corrente in un giorno ma non 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 mi costa niente non mi costa di bonifico non mi costa di tasse non mi costa non mi costa assolutamente niente quindi riflettete bene sulla tipologia di investimento che volete fare e a mio modesto avviso eliminerei a parte piccoli investimenti assolutamente l'idea di comprare oro e poi magari seppellirlo in giardini anche questa è una cosa a mio avviso dal punto di vista professionale assolutamente sbagliata mi fermo qui per il momento ci sono anche altri piccoli diciamo aneddoti da raccontare da dire su loro però queste sono le cose più importanti ci sono domande? benvenuto Daniele benvenuto con Daniele sì Massimo io ho una domanda da fare ma quindi praticamente con l'acquisto di oro online a Uvesta io non pago la plusvalenza non pago tasse sulla plusvalenza giusto? no assolutamente no queste le pago solo ed esclusivamente con oro fisico è il corretto 26% di plusvalenza ok basta così io ho una domanda per parte ma chi ti vende l'oro sfuso scusatemi chi ti vende l'oro sfuso non te le dice mica queste cose ti raccontano i consulenti sempre le cose a metà cioè ti raccontano quello che è funzionale per vendere ma scusa bisogna che un po' di serietà bisogna che uno dedica insomma tutta la storia diceva devo comprare l'oro sfuso compralo però devi sapere che se succede questa cosa qui da 100 ti va a 200 ci paghi 26 mila dollari ho un cliente che voleva fare a Uvesta e lui mi ha detto guarda che se vendo ora non faccio il nome un amico che è venuto a trovarmi anche lui a suo tempo ha vestito in oro e mi ha detto guarda un vestito oro così e così ma se lo devo vendere ce lo farà la plusvalenza si lo so quanto è l'oro c'aveva un bel po' d'oro ho detto lascia fare lascia fare a Uvesta farai un'altra cosa perché li devo far vendere l'oro che poi dove ci deve pagare 26 ce la pagare anche lui 30 o 35 mila dollari euro solo di tasse per vendere assolutamente no magari farà un'altra cosa no? prego Franco ok sì io infatti avevo acquistato in oro fisico l'anno scorso una cifra anche abbastanza significativa però poi l'ho rivenduto subito e non ho avuto plusvalenze anzi al contrario quindi mi è andata tra virgolette bene ecco è stato fortunato perché come ti ho detto se sei fortunato lo puoi rivendere a 32-33 mi dicono non di più non di più se no il compro oro te lo paga 30 rimetti subito il 40-45% si il compro oro diciamo Banco Metalli più che compro oro sì sì va vero Banco Metalli di compro oro di questi qui che si trovano ma perché molta gente considera il compro oro come quello che trovi in negozetti no 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 effettivamente no effettivamente no però è sempre un problema quando lo devi vendere capisci perché non è che sia una cosa così immediata ti devi dare da fare assolutamente è una besta fai un click e te lo vendono ma perché ti devi complicare troppo la vita insomma già la vita è abbastanza complicata sì sì io mi ricordo che la procedura per rivenderlo per rientrarlo non è stata velocissima devi compilare una serie di moduli eccetera eccetera stipulare tipo un contratto con il Banco Metalli esatto allora ci sono delle domande prego fate tutte le domande che volete non siate timidi eh Daniele Daniele buonasera mi senti? allora Daniele buonasera Massimo buonasera buonasera benvenuto Daniele come stai? non ci conosciamo ancora di persona ci siamo però scambati cambiati un messaggio oggi conosci niente dell'oro vuoi per caso fare una domanda sull'oro che ti incuriosisce? sì guarda l'oro per quanto riguarda l'oro io sono un po' neofita nel senso non l'ho preso ancora in considerazione come 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 diciamo per diversificare diciamo il patrimonio non l'ho preso ancora in considerazione al momento sono come tu sai concentrato sul progetto di Zanzibar insomma mi viene anche strano conoscerti ci siamo promessi di vederci spesso a Giambiani Paggio in quella zona lì poi il destino ci ha fatto incontrare per la prima volta via comunque sì guarda io sono per il sì sono per il diciamo in questo momento le mie energie sono concentrate lì l'oro diciamo è una possibilità però sinceramente non potrei contribuire ad arricchire il dialogo che già avete se vuoi presentare velocemente quello che fai Giambiani Giambiani è una delle spiagge più belle di Zanzibar tanto per chi per chi non lo conosce ecco prego Daniele velocemente cosa fai a Giambiani c'è un'attività guarda Giambiani io sono andato la prima volta a Zanzibar a Giambiani tramite un conoscente e niente in pratica sono stato nel 2017 poi sono tornato perché mi è piaciuto nel 2018 e lì ho visto già un cambiamento importante nel senso che l'isola è in piena espansione ci sono tantissime cose che da fare e che stanno già facendo quindi all'epoca decidemmo tramite la nostra amica di comprare un piccolo terreno a Giambiani come un gioco diciamo o una diversificazione di costimento però i terreni a quell'epoca costavano talmente poco che possiamo quasi considerarlo un gioco e niente da lì in poi è successo anche il discorso poi della pandemia del covid e tutto il resto io sono rimasto bloccato lì cinque mesi di solito io rimanevo quindici giorni così e quella volta sono rimasto lì bloccato cinque mesi quindi insomma è successo quello che è successo ho avuto tempo di ragionare informarmi capire cosa stava succedendo al di là delle diciamo di quello che ci raccontavano io ho sentito subito subito non subito all'inizio ci ho creduto i primi quindici giorni ho detto che cazzo sta succedendo poi invece diciamo la sensazione è quella dell'undici settembre che era tutto troppo pompato per essere vero c'era qualcosa che non andava bene e quindi da lì diciamo è partito un certo ragionamento alla ricerca del famoso piano B si trova a Ramello dove sono adesso che io sono di Milano in questo momento sono a Milano per motivi familiari però io sono quindici anni che vivo a Barcellona e avevo una avevo un'attività e niente che poi ho venduto nel 2019 fortuna voluto e quindi avevo anche la necessità di reinventarmi quindi è come se il covid è caduto a pallino quindi abbiamo io e un amico abbiamo rilanciato diciamo la scommessa abbiamo giocato a raddoppio come diceva Mike buongiorno no lascio raddoppio noi abbiamo raddoppiato preso un piccolo terreno in più che abbiamo unito a quello che già abbiamo e stiamo diciamo ultimando delle piccole casettine che sono delle casettine diciamo con un concetto un po' diverso rispetto al concetto classico di Zanzibar che sono i resort i resort sono delle camere da letto imposti meravigliosi sul mare con la tua come si chiama col tuo ristorantino e tutto il resto noi volevamo creare una cosa un po' diversa volevamo creare degli appartamenti che siano autonomi quindi che le persone vengano provino un'esperienza alternativa a quella del resort nel senso più più a contatto con il villaggio e più diciamo autonomi più insomma una cosa pensavamo di fare una cosa una cosa diversa di questo tipo per persone diverse e poi tutto ciò adesso si è rivelato molto utile perché noi adesso abbiamo iniziato l'attività da pochissimo stiamo parlando le ultime cose i nostri ospiti sono tutta gente diciamo europea o sudafricana anche le statunitense insomma tutta gente che o ha deciso di trasferirsi quindi sta vedendo un attimino cosa succede e sta guardandosi in perno oppure gente che magari ha la possibilità di lavorare in smart working quindi utilizza tutto il periodo che è concesso del visto cioè tre mesi per rimanere in una realtà diversa continuando a fare il proprio lavoro quindi diciamo a grandi linee il mio progetto è questo qua che sarà terminato credo a fine anno al momento adesso torneremo giù a ottobre e niente in questo contesto quindi ero molto interessato a vedere a sentire gente che stava facendo la stessa esperienza e infatti Massimo mi ha incuriosito molto perché insomma non è proprio un posto la Tanzania così che optano tutti quindi ci siamo poi conosciuti mi ha incuriosito anche della sua attività che insomma ho abbastanza chiaro però vorrei approfondire certi punti motivo per il quale avevamo deciso di incontrarci sicuramente ci incontreremo più avanti niente spero di non essere stato troppo lungo no no teniamoci in contatto fammi sapere quando rientri ci sono dei momenti in cui ci vado spesso perché io abito al sud di Dere Salaam ci vado spesso arrivo a una coppia il 24 per due settimane quindi a fine mese sarò di nuovo a Zanzibar come al solito si spende due o tre giorni qui a Dere Salaam e poi li porto a Zanzibar dopo poi loro l'ultima settimana faranno una settimana di ferie però devo un attimino ritornare se posso non voglio annoiarvi troppo a quello che dicevo prima del discorso delle vacanze eccetera allora io mi aspettavo sinceramente che qualcuno venisse io sono stato molto occupato fino a maggio giugno praticamente quasi quasi tutte le settimane ero occupato con i clienti amici molti dei quali ci sono un collegamento anche a questo momento no e mi aspettavo un minimo di interesse anche con gli interventi fatti su Telegram e di persone che venivano approfittando delle ferie di agosto ma non è venuto nessuno agosto verranno verrà questa coppia con la quale sono in contatto da tempo finalmente hanno le ferie e sono decisi sono decisi a venire loro sono decisi verano loro ecco però bisognerebbe approfittare secondo me delle ferie per fare delle cose utili anche perché come ho strutturato io qui organizzato la cosa io uno poteva venire qui stare tre o quattro giorni a fare un po' proprio di prendere informazioni quindi lo portavo in giro e poi magari si faceva l'altra settimana di vacanza lo mettevano un bel resort e invece non lo so le persone che sono venute sono andate probabilmente in ferie a me non mi ha contattato nessuno quindi spero veramente che ci sia un maggiore intervento ma io lo dico per me perché tanto io sono una persona creativa io c'ho sempre qualche cosa da fare quindi lavoro nell'oro insomma adesso c'è un'altra iniziativa che tra poco non ne posso parlare pubblicamente però ora vi dirò io mi invento sempre qualche cosa mi dispiace vedere che molte molte persone in Italia stanno lì e aspettano ma cosa aspettate dovete selezionare due zone due due nazioni diciamo due no perché tre cominciano a essere troppi di cui secondo me una dovrebbe essere la Tanzania o Zanzibar e dedicare un po' del vostro tempo ad informarvi perché ricordatevi siamo all'inizio di questo programma qui di mister Ariri e company loro andranno avanti mica si fermeranno venendo e riuscendo a sistemarsi qua in qualche maniera si acquista tempo e il tempo è la cosa più importante in questo momento poi naturalmente ci si guadagna di salute perché qui non ci sono vaccinazioni non ci sono distanziamento sociale non c'è mascherina non c'è assolutamente niente e è veramente uno che è sensibile a queste cose solo per un fatto di salute dovrebbe veramente considerare di cambiare stile di vita e venire a lavorare qua ci sono altre domande o domande ancora su loro Massimo sono Michele ho una domanda per Walter vorrei sapere se per le persone che non hanno aperto una Royal Class perché appunto l'investimento è un pochino più alto per quelli che hanno fatto l'investimento pianificato con i versamenti mensili cosa succede una volta che si è arrivati alla soglia dei 30.000 euro come per la Royal Class cioè c'è una conversione di classe dell'investimento oppure si rimane per sempre in queste nella classe sottostante allora buonasera anche a te si rimane nella classe sottostante per un motivo perché le categorie di tariffe che applica ovesta sono una che sono la Smart Business e la Premium per i piani di accumulo e un'altra invece per i versamenti consistenti una tantum che possono fermarsi lì ma possono anche avere ulteriori versamenti come dicevo quindi nella Premium tra l'altro uno acquista fino a 30.000 che è l'ipotetico obiettivo alla fine può continuare a versare approfittando dei vantaggi di quella tariffa che è comunque la migliore fra le tariffe dei piani di accumulo e continua a ricevere il bonus del 5% su ogni acquisto fino al totale recupero dell'agio iniziale versato quindi del costo di apertura di quel deposito in termini matematici può acquistare fino a 45.000 euro avendo il bonus ma può acquistare anche dopo diciamo che il limite dato dal contratto iniziale è un limite vincolante per a ovesta cioè a ovesta si impegna a fornire il metallo prezioso quanto meno fino a quella cifra però ovviamente finora avresta sempre dato la garanzia di fornitura anche oltre quella cifra e per cifre maggiori se uno arriva faccio un esempio pratico se uno arriva a 30.000 con il piano di accumulo e dovesse faccio un esempio vendere un appartamento e avere una disponibilità che vuole dedicare al top di 50.000 non ha senso che avessi sul deposito premium e con quei 50.000 si farà un secondo deposito royal class ma le due cose sono distinte uno nasce e viene gestito con il piano di accumulo e l'altro è considerata la tariffa una tantum ho risposto alla domanda? grazie ok prego se non ci sono altre domande approfitto per ricordarvi brevemente che c'è la possibilità con un investimento molto molto relativo al contenuto di ottenere un visto di residenza classe C per i soggetti in età pensionabile cioè per tutti coloro che hanno in maniera molto generica che hanno superato i 60 anni d'età possono venire in Tanzania ovviamente ci vuole un minimo di soldi un minimo di reddito anche se non hanno la pensione c'è una procedura particolare da fare è la procedura che ho seguito io ho 63 anni quindi ho fatto tutto con un amico ho spiegato tutto e andò tutto bene ho ottenuto il visto per due anni che automaticamente rinnoverò quando ci sarà bisogno perché quando non è pensionato rimane pensionato a vita può sempre cambiare visto se vuole ritornare a fare business per esempio ritorna prendo un visto a rinuncia al visto C e e riapre un'azienda e ritorna a fare business però automaticamente si rinnovano i documenti da mettere insieme sono molto semplici ce l'ho proprio qui davanti a me tutti coloro che sono interessati mi possono contattare e ricordo che per gli amici di Telegram l'invio del piano B e piano C cioè del prospetto informativo sono gratuiti costerebbero 33 euro io poi li mando tutti e due insieme quindi 33 euro per i due prospetti però poi la consulenza se si vuole andare avanti fare un discorso insomma un po' programmato quella costa 66 euro e in quella l'obiettivo di tutta la consulenza è quella poi di vedere se c'è la fattibilità no? per il soggetto di poter venire perché io sono molto chiaro se vedo che non c'è fattibilità non li faccio nemmeno venire qua eh? non li faccio nemmeno venire solo coloro che rispettano certi parametri e allora poi l'indito definiamo la settimana eh di ispezione chiamiamola così e e poi definiamo la data e si fa proprio la proprio poi c'è la settimana naturalmente che vengono c'è anche una piccola fita a pagare anche su quello però a linea di massima insomma le cose da vedere sono ancora molte e ci sono tante cose eh da ovviamente da prego sì prego chi è? Daniele volevo no volevo solo rilasciarmi al discorso che facevi prima della poca gente che 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 mostra il suo interesse sì ed io penso che al momento qua io sono qua a Milano da mangiare c'è ancora non siamo alla fame e tutto sta iniziando adesso iniziano adesso a spaventarsi per le le bollette che stanno arrivando e certa gente inizia a guardare se ero specchio dicendo ma cosa sta succedendo eh diciamo quelli che sono arrivati giù a Zanzibar in questo periodo che io ho avuto modo di conoscere sono proprio eh gli avamposti cioè nel senso le persone più sveglie che 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 si sono mosse con largo anticipo che hanno proprio fatto un cambio di vita e hanno immediatamente dal dalla prima restrizione dalla prima mascherina dalla dalla dal primo obbligo dal primo qualsiasi cosa che loro hanno detto no io non ci sono e sono hanno hanno cambiato completamente per gli altri ancora sono scusate sono ancora titubanti perché insomma non sono ancora convinti di quello che succederà lo iniziano a a sentire no a iniziano a sentire l'odore di marcio ma ma comunque eh fanno fatica anche a prenderne atto mi capisci però questo sicuramente cambierà in brevissimo tempo quando veramente qua inizierà a star a star male dopo le elezioni allora vedrai che che comunque secondo me ci sarà anche un problema di tra virgolette ovviamente invasioni di europei che la mia preoccupazione è quella anche che poi snaturino anche il posto perché in questo cioè se continuo così veramente ci sarà un esodo verso questi paesi tra virgolette covid e niente ci tenevo a dirlo scusami se se ti ho interrotto il ragionamento che stavo no 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 ma sono ti ringrazio Daniele sono sicuramente d'accordo con te infatti dopo settembre io prevedo di essere molto molto occupato questo questo mi sembrerebbe abbastanza logico insomma con la situazione che c'è però io tanto io non ho problemi perché se vengono vengono se non vengono faccio altre cose capito ecco allora comunque ritorniamo a quello che dicevo sempre per quello che riguarda un'alternativa eh per venire qua c'è la possibilità di venire come volontario io mi sono messo d'accordo con due società non profit che vi possono tra virgolette chi è interessato in media di massimo questo qui sono per ragazzi giovani no il limite comunque è 55 anni eh il limite per essere accettato il limite diciamo di legge e con anche qui con un investimento minimo ma ci si garantisce di poter rimanere qua due anni è sempre comunque una bella esperienza di vita perché poi magari uno viene conosce tanta gente impara magari un po' l'inglese lo migliore eccetera eccetera ricordate che una delle esperienze più importanti che bisogna fare nella vita è quella di andare all'estero perché finché si rimane in Italia mia mamma ogni tanto per battuta mi diceva Massimo te vivi in un coppo che è un'espressione toscana credo lucchese per dire che vivi in un coppo come se tu non uscissi mai di casa e aveva ragione mia mamma nel senso che bisogna riuscire a andare fuori soprattutto avere esperienze di lavoro eh soprattutto e allora ci si ci si ci si fa un'esperienza che magari lì per lì non ci si accorge nemmeno però ci si accorge quando si torna in Italia oppure quando magari si deve fare business ecco naturalmente la conoscenza dell'inglese proprio le esperienze io sono stato a New York per 31 anni New York non è nemmeno una città americana è una città internazionale è un sito dove sei in contatto con 110 culture diverse persone nazionali diversi quindi io nemmeno non mi sono nemmeno accorto però conosco la mentalità dei sudamericani conosco la mentalità dei canadesi che non sono molto diversi dagli americani conosco la mentalità dei messicani cioè riesco a conosco la mentalità eh di come si chiamano dei costacoregni come si chiamano di Costa Rica eh capito conosco un po' tutte queste cose qui grazie all'esperienza e alle persone dei venezuelani eh alle persone che ho incontrato a New York se si rimane in Italia purtroppo eh si fa fatica poi a capire quello che succederà il nuovo ordine mondiale della trilogia eh viene proprio la conseguenza di questa mia esperienza a New York perché se non avessi imparato l'inglese e fossi rimasto in Italia la trilogia non esisterebbe e io probabilmente non avrei l'esperienza che ho in questo momento qui non è che io mi consideri non sono nessuno ecco però diciamo che io personalmente sono molto contento dell'esperienza che ho fatto perché mi ha maturato molto sotto tantissimi punti di vista ecco diciamo che si da si riesce a mio avviso a dare una una svolta radicale a quella che è la crescita personale che non è una crescita spirituale io nel libro lo spiego questo aspetto qui è state attenti a coloro che vivendono la vita felice e che vivendono la crescita spirituale la vera crescita è solo nella conoscenza non c'è nessun altro se uno poi ha fede benissimo benissimo non c'è nessun tipo di problema dunque allora dicevo è possibile venire qua come volontari con un investimento molto relativo in questo caso siete assunti direttamente dalla compagnia l'impegno è molto modesto e sia la prima opzione è quella come pensionato ma soprattutto la seconda è ideale per coloro che lavorano al computer che fanno un lavoro in remoto e quindi possono continuare a fare la stessa vita con un'importanza sanitaria in Tanzania o a Zanzima a continuare a fare esattamente lo stesso lavoro in un ambiente magari molto più semplice e diverso però completamente libero e veramente qui la cosa che fa la differenza è la libertà perché c'è nessuno che ti dice quello che devi fare quello che non devi fare cioè è una cosa io sono io sono dovuto venire via da New York perché ero come caratterialmente ero terrorizzato dalla polizia da queste cose qui perché poi caratterialmente non è che sia uno così poi tanto forse mi girano i coglioni scusate il termine tanto adesso è già abbastanza tardi minorenni all'ascolto non ce ne sono se poi mi girano le palle mi girano le palle quindi mi fermava che la polizia per il controllo è sempre stato un po' così e non sopportavo assolutamente che mi obbligassero a mettere la mascherina e questo è stato per me proprio la svolta il momento proprio di verità della verità che mi diceva no io assolutamente devo uscire di qui perché non ce la faccio ecco bisogna che ognuno di voi si metta un limite no un limite massimo oltre il quale non devo assolutamente andare lavorare sul piano B la possibilità di venire e fare una vita decente c'è e c'è sicuramente più qua per un ragazzo giovane che in Italia o forse anche in Europa l'Italia la Tanzania è il paese del futuro eh in Africa guardate che io non è che butto parole così se lo dico è perché ho fatto le mie ricerche e ne sono assolutamente sicuro bisogna adattarsi bisogna capire che la Tanzania è in un momento buono ma non è per esempio ancora in un momento tipo quello del Kenya in cui si va a Nairobi e funziona quasi tutto i servizi funzionano benino le strade sono in ordine no qui c'è ancora molto da fare ma proprio perché c'è molto da fare ci sono più opportunità quindi non vi state da preoccupare eh troppo eh se qui ci sono tutti neri sono tutti molto eh direi quasi ospitali cordiali eh non troverete mai nessuno che vi butta dietro una bottiglia eh sulla testa o vi dà uno spintone eh entrando insomma sul ferri o no sono tutti molto cortesi e coloro che sono venuti no ora non li voglio chiamare tutti per disturbarli vi possono confermare questa cosa sono dei pacifici quindi basta che uno venga determinato con le idee giuste su quello che vuol fare e qui non avrà nessun tipo di problemi ma quello che vi sto dicendo adesso vale da qualsiasi parte andiate eh quindi non è importante perché la mentalità è quello che fa la differenza io ve lo dico per esperienza mia personale ci sono altre domande per il dottor Manca altrimenti magari se ci vuol lasciare lo 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 facciamo andare a riposare poi vi dico un'ultima cosa abbiamo già fatto quasi un'ora e mezzo e poi magari stasera possiamo anche chiudere Marilena non non la voglio disturbare vuole per caso fare una domanda come stai un po' che non ci sentiamo si è ripresa tutto bene meglio si si meglio ho fatto tanta fisioterapia va bene la spalla va bene anche il polso ho risolto insomma un po' di rogne che ci avevo in giro adesso magari ci sentiamo telefonicamente vediamo di organizzare va bene benissimo Marilena quando vuole con piacere io sono qua vi aspetto grazie 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 tante grazie a lei buona serata buona serata allora dunque vi dico un'ultima cosa guarda c'è anche Francesco ciao Francesco come va tutto bene Francesco è un altro amico che mi è venuto a trovare non ti voglio disturbare Francesco se vuoi intervenire per dare una breve testimonianza 5-10 minuti chiudiamo la trasmissione se hai domande sull'oro il dottor manca è qui allora vediamo un po' quello che vi vuole dire è questo sto lavorando fate pazienza sarà un messaggio criptato quello che vi dico adesso su un altro progetto e io purtroppo me ne invento me ne invento anche proprio tante volte e non creo problemi da solo allora dunque se per caso tra voi o tra gli amici che conoscete ci sono delle persone che rischiano di perdere il posto di lavoro allora forse forse ho la soluzione per questi soggetti mi fermo qui non mi posso dire nient'altro coloro che vogliono maggiori informazioni mi possono contrattare attraverso telegram adesso ho impostato con i setting praticamente la conversazione riservata per cui io vi mando il messaggio e dopo un giorno il messaggio viene automaticamente cancellato poi a seconda del messaggio possono essere anche 30 secondi perché fidarsi è bene ma non fidarsi è troppo dicono che telegram è controllato meno perché è stato ideato da un russo credo sì è possibile però bisogna sempre fare le cose in maniera molto molto attenta comunque non vi posso dire nient'altro coloro che magari ci sono curiositi mi mandano un breve messaggio e io dispergo quella cosa lì di cui parlo l'ho fatta anch'io qua non è che parlo di una cosa così l'ho fatta l'ho testata e quindi sono certo al 100% che funziona allora vediamo un po' nessuno che ha delle domande Francesco puoi pure intervenire se vuoi tanto come vedi siamo un gruppo di amici non ci sono problemi assolutamente come credi eh non ti voglio mettere il gruppo di amici pronto? sì pronto pronto? chi è? chi è? Francesco Massimo ciao caro come va? ma avevi detto prima dopo mi sarà scollegato il telefono sì no guarda qui siamo anche con altri amici che sono venuti a trovare a trovarmi quindi te sei uno degli ultimi che sei venuto se vuoi dare una testimonianza velocissima ecco giusto per dire due parole o sai delle domande prendi il tempo che vuoi allora ammetto che mi sono collegato solo ora sì quindi non non so cosa avete abbiamo parlato un po' del cosa potrebbe essere utile per voi allora guarda abbiamo parlato un po' di oro perché abbiamo approfittato il dottor manca valter manca gente ovesta qui con noi hai delle domande sull'oro per caso conosci valter no così adesso al volo ecco vabbè poi abbiamo parlato valter già l'ho chiamato più volte per qualsiasi domanda ho parlato un attimino del discorso dell'uomo cyberman quello che vogliono creare a livello biologico il nuovo uomo sul quale stanno lavorando collegato al nuovo ordine mondiale ti hai letto la tecnologia e quindi sai di cosa sto parlando e poi abbiamo parlato brevemente delle elezioni politiche che a me avviso non contano assolutamente niente che non cambieranno assolutamente niente come sempre sono intervenuti degli amici che sono venuti anche a trovarmi hanno dato anche un po' di loro testimonianze e poi ho fatto un po' di analisi sull'oro perché sull'oro come sai c'è il capital game da pagare il 26% però sull'oro non ci sono tasse no? e ho spiegato che sì solo su quella come sempre strano ho spiegato che insomma per certi quantificativi è preferibile comprare oro con Ovesta o con aziende che lavorano similmente ad Ovesta piuttosto che comprarlo sfuso perché automaticamente poi il prezzo cala moltissimo se uno lo deve rivendere nel breve periodo ci rimette come si sembra anche a chi me lo chiede per l'oro se lo compri da un compro oro te lo metti adde meno se glielo rivendi te lo compri adde meno perché anche loro stanno lì per guadagnare giustamente invece con Ovesta c'è un altro discorso un po' più articolato ma in realtà è più semplice perché si va direttamente a prendere i gold standard e poi prendere l'unica è tutto un altro discorso penso che l'avrete parlato fino a sì sì le cose vanno sempre ripetute perché tante volte sembra di capirle ma poi si ripetono le cose non ci sono problemi poi la consulenza sul loro ricordo è gratuita completamente gratuita potete contattare me il mio indirizzo di posta elettronica è mmguerrieri chiocciola jaco.com oppure contattare anche tramite telegram il dottor Walter Manca oppure magari insomma poi ti mando mi contattate e vi vedo io le informazioni diciamo che io do una consulenza molto generale così e lui invece dà proprio la consulenza necessaria per aprire il conto per navigare sul sito insomma tutte le cose tecniche è lui l'esperto un'altra cosa che sicuramente è stata detta e che elude qualsiasi altro discorso è che sicuramente non conviene tenerli sul conto adesso no scusami sicuramente non conviene tenerli sul conto bancario adesso e beh questo è quella cosa che ripeto sempre tenere adesso molti soldi diciamo così sul conto corrente non è una gran cosa assolutamente no è un gran rischio sì un gran qualcosa i soldi sul conto corrente non rendono sicuramente niente rendono soltanto alla banca che li usa per fare i propri investimenti lo sapete no i soldi che sono depositate i nostri soldi che sono depositati in banca che sono soldi comunque digitali no perché è un numero nel compiere la banca li usa per fare investimenti i nostri soldi quindi loro fanno speculano sui nostri depositi e noi questo non lo sappiamo io questo l'ho saputo facendo un po' di studi e parlando insomma ascoltando degli esperti la cosa qui è abbastanza risolta non lo potrebbero fare la prova pratica basta che andate a ritirare i soldi e vedete cosa vi dicono esatto non è che siano particolarmente contenti eh no ma non ce ne dicono che non ce l'hanno a meno che non ti arrabbi o che non torni in cinque scaglioni un po' al giorno oppure fai come ho fatto io che tu lo sai come vado va bene vuoi aggiungere nient'altro Francesco come è stata l'esperienza tu venendo qua in due parole eh riguardo l'oro o riguardo la Tanzania in generale in generale sì in generale eh guarda come ho raccontato a tutti la cosa che potrebbe confermare il tutto sia sotto il punto di vista dell'oro sia quello di Francesco non ti sento più Francesco lo sentite io non sento più Francesco no non si sente Francesco non si sente però mandiamo un messaggio mi sa che è saltata la linea vediamo l'ho scritto pronto si sentite adesso eh sì sì la sentiamo scusate ma sono in macchina quindi è possibile che ogni tanto vada e venga la connessione e niente ti dico io là ho trovato questo questo volersi bene di essere contenti che sicuramente è sintomo di tante altre cose fatte bene o perlomeno non fatte male come qua in Italia mi riferisco e per quanto riguarda l'oro penso che là c'è abbondanza ma solo sapendo cercare venire giusto e fare gli accordi fatti bene in due parole anche perché immagino che vi siete detti già parecchio sì beh Francesco è venuto qua e abbiamo visitato insieme una miniera tenete presente che le miniere importanti e Francesco forse non so se ti ricordi dovete anche a te perché adesso le miniere importanti sono molto lontane sono al nord ci vuole tante volte due giorni per arrivarci io forse con Masciaca farò una visita a una miniera di un suo amico appena possibile forse a settembre e ci vuole due giorni per arrivarci invece noi siamo andati tanto per avere un'idea di come funziona la miniera siamo andati a Tanga siamo partiti la mattina siamo tornati nel pomeriggio però in questa zona qui miniere importanti non ce ne sono sono tutte nella zona nord insomma qui c'è la Tanzania è grande c'è un sacco di terra quindi poi la mattina alle 4 siamo tornati alla sera tardi esatto è stata una bella giornata sì ecco e quindi ci sono grandissime possibilità anche nel discorso oro perché teniamo presente che il vero business anche in questo settore è partito pochi anni fa quindi c'è tanto oro in Tanzania sicuramente addirittura ho letto mi sembra da qualche parte che non avrebbe niente da invidiare a Sud Africa come quantità d'oro presente però per qualche ragione che io ho anche spiegato in passato chi controlla la Tanzania non ha avuto in questi anni la voglia o l'interesse di sfruttare diciamo queste risorse naturali presenti sul territorio stanno iniziando adesso quindi come anche in questo caso c'è molto da fare chi viene qua soprattutto con un po' di soldi un po' di soldi ci servono sempre insomma si con insomma facendo le cose per bene facendo le cose per bene secondo me si può fare molto moltissimo perché il paese è in crescita è uno dei pochi paesi in crescita negli ultimi venti anni è cresciuto il 7% ha in questi due anni approfittato del lockdown dei paesi limitrofi la maggior parte dei paesi africani naturalmente ha sofferto il lockdown in Tanzania le zanze non hanno chiuso un giorno naturalmente questo ha creato un vantaggio competitivo importantissimo rispetto ai competitori perlomeno locali qui si parla di marketing è un po' diciamo la mia specializzazione diciamo così a buon senso ne trarà sicuramente vantaggio il paese ci sono allora Valte se vuoi andare a letto ti ringrazio dell'intervento ci sentiamo la prossima settimana d'accordo grazie mille un saluto a tutti e buonanotte a tutti ciao grazie ciao ecco allora se non ci sono altre domande io vi ho detto praticamente tutto tutto vi ho detto molto anche stasera io vi dico tutto quello che so da quando faccio gli interventi su telegram e che poi non è che mi invitano molto gli altri canali di youtube in questo momento non è che poi ci stia dietro molto neanch'io non faccio più consulenze quindi non faccio più nessun soldo però tanto è lo stesso non ha una importanza si diverte anche in questa maniera ecco ricordo che se un'iniziativa sulla quale sto lavorando adesso se qualcuno ha degli amici che rischiano di perdere il posto di lavoro perché quella cosa lì non la vogliono fare allora se mi contattano io vi spiego ci potrebbe anche essere una soluzione che io ho trovato e una volta che uno ha fatto quella cosa lì è tranquillo diciamo per tutta la vita eh per tutta la vita però poi non posso parlare troppo eh parlerò magari più avanti per chi è interessato e chi mi interessa e chi e chi mi contatta allora se non ci sono io faccio un saluto a Michele e Giulia non ti ho sentito Michele non ti voglio disturbare anche loro sono venuti a trovarmi un po' di mesi fa eh e loro e loro hanno fatto quella cosa che dicevo l'hanno fatta sono da coloro che l'hanno fatta e anzi sono gli unici stasera che sono in linea che l'hanno fatta per il momento però non se ne può parlare e va bene così e quindi Michele faccio un saluto saluto a Giulia saluto a Michele Fabrizio no ci sono anche sì ci sei anche te te l'hai fatto come single e loro l'hanno fatto come coppia per quello che mi sei scappato vabbè sì anche Fabrizio è andato tutto bene Fabrizio funzionato benissimo alla grande ottimo ottimo sai quello lì sai che poi ti renderai conto che cosa hai fatto lì per lì ora magari ti renderai conto tra tra poco i problemi che hai risolto con quella cosa benissimo ok ma per quanto ne hai conosciuto sai che non lascio nulla al caso sì 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 non dobbiamo avere la mente aperta sempre ricordate cosa più importante avere sempre la mente aperta non avere pregiudizi via allora se non c'è nessuno che ha delle domande io vi saluto ricordo che sto registrando e quindi poi eventualmente la registrazione sarà disponibile ciao Daniele buonanotte e niente faccio un saluto a tutti vi ringrazio e naturalmente ci sentiamo la prossima settimana buonanotte a tutti grazie buonanotte 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 buonanotte